Tutto pronto, partiti, lo spettacolo di PMG Sport, lo spettacolo del futsal italiano Attenzione adesso Dalcin, zona centrale, ancora Salas la taglia Musumeci, mamma mia, trema la traversa E Dalcin pronto a battere il calcio d'angolo Musumeci, attenzione Dalcin Sbaglia il tocco, Paolo Cesaroni E approfitta Cutrupi, grande numero Cutrupi, se ne va via, doppio passo, pallone al centro, Novara Poggia ancora il numero tre della metà Catania Cesaroni, ancora Battistoni, attenzione il corridoio Ancora Cesaroni, e Camagno! La sblocca lui, Giulian Camagno, la metà in vantaggio E' l'uno a zero di Giulian Camagno Al sesto sigillo Chiede la distanza l'arbitro Fischia, parte Motta, c'è il pareggio Di Ostia, la pareggia Motta Che la mette nel set Ed è uno a uno Parte il contropiede della metà Catania Salas, però di schema Dalcin chiuso E attenzione, aveva trovato la porta Duda Dalcin Dalcin perde il contrasto Attenzione, parte il contropiede di Ostia Ancora con Motta, Motta E il pallone si divora il vantaggio E' un brasiliano Dalcin, Salas Tutto solo Di pronto Battistoni Taglio Ardani Mamma mia Se inquadra la porta e fa gol Casca il palla Catania Parte Musumeci La metà torna in vantaggio Carmelo Musumeci E la dedica Alla piccola appena nata in tribuna Motta Tocco, Rengifo Muro, Domara Ernani Battistoni Pacutrupi Camagno Posizione di sparo Camagno addosso Al diponto Attenzione a Cesaroni Vede Dalcin Scoppia il palla Catania Duda Dalcin La metà triplica Camagno Insiste però la meta Dalcin Salas Di ponto Che parata Verso Salas C'è però la chiusura ottima Nella fase difensiva Esposito Tutto solo Dovara Ancora Dovara Elettrico Il numero 99 Della meta Catania Vuole calma La panchina Musumeci E' il quarto gol Il poker della meta La doppietta del capitano L'inizio stagione E' stata anche prima In classifica Battistoni Ma deve intercettare Attenzione Cutrupi Dovara Dice di no Ancora Il tiro di Dalcin Colpo da biliardo Per poco La meta Catania Bricositi Batte Todis Lido di Ostia Per 4-1 Attilo Scuderi Vi ringrazia Questo è stato Il grande spettacolo Di PMG Sport Sempre sulla Grande piattaforma Che vi offre La Serie A Del Futsal La Serie A Continua Vi offre Vi offre Vi offre Vi offre Attenzione Grazie a tutti